Sul fondo precedentemente preparato applicare Imperium diluito al 10% con acqua potabile. Applicare Imperium su piccole porzioni di parete, circa 50x50 cm, con il pennello, ed immediatamente tamponare tutta la zona con l'apposito tampone Imperium. Articolo 116 Attendere 5-6 ore per l'essiccazione ed applicare una seconda mano di prodotto con le medesime modalità. Grazie per la visione!